Secondo l'INAIL il 2015 del lavoro è stato un anno contrastante. Da un lato diminuiscono gli infortuni sul lavoro che appunto calono del 3,92% dall'altro aumentano invece addirittura oltre il 16% le morti sul lavoro. Vediamo i particolari nei servizi. Un 2015 nero per gli incidenti mortali sul lavoro. L'anno da poco alle spalle conferma un calo nel complesso degli infortuni sul lavoro ma segna la risalita dopo un decennio in continua discesa del numero delle cosiddette morti bianche. In totale le denunce di infortunio arrivate all'INAIL nel periodo gennaio-dicembre 2015 sono state 632.665 con una riduzione del 3,92% rispetto alle 658.514 dello stesso periodo del 2014. Le denunce di infortunio mortale invece sono state 1.172 in aumento del 16-15% rispetto alle 1.009 di gennaio-dicembre 2014. Gli over 60 tra i più colpiti. L'analisi per classi di età evidenza infatti l'incremento maggiore tra i 60 e i 64 anni, più 42,2%, dove si è passati da 83 a 118 denunce di infortunio mortale. I dati dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro aggiornati a fine 2015 comprendono sia gli infortuni cosiddetti in occasione di lavoro sia quelli in itinere nel tragitto casa-lavoro. Alle denunce fa seguito l'accertamento dei casi. La tendenza che emerge è al rialzo per le cosiddette morti bianche.